Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Fiabe di Stoffa, che è un gioco edito in Italia dall'Asmode Italia, quindi portato in Italia e localizzato, ed è dello stesso autore di My Same Mystics, altro gioco che ho una voglia di provare recensione da paura, e ancora una volta accorgo l'occasione per ringraziare Asmode, grazie veramente di cuore, e voglio ringraziare di cuore Aurora, che ogni volta, ogni singola volta che gli scrivo una mail di qualsiasi gioco, di qualsiasi genere e tipo, se è uscita ad Asmode, tutte le volte ha sempre un sì, e te lo spedisco, quindi Aurora, grazie di cuore. Se sentite un pochino di miagoli, è perché c'è la gattina piccolina, Morgana, che quando si fa i video, lei deve venire su, se la lasci fuori dalla porta, piange e si sente nel video, quindi c'è un gattino nero che gira. Comunque parliamo di Fiabe di Stoffa, che è un gioco che da come lo fanno passare, intanto qui dietro, età 7 o più, ci sta questa volta, non arzo né abbasso, due o quattro giocatori, durata della partita 60-90 minuti, perché questo è un gioco, dove, un gioco cooperativo ovviamente, dove però uno dei giocatori farà anche la parte del narratore, narratore o comunque alla Hero, questo Dungeon Master, tra virgolette, ed è un gioco molto interessante perché vi ho fatto vedere che sto iniziando a trattare, o comunque porterò sul canale Libre Game, e questo gioco è una figata perché fonde praticamente un gioco cooperativo con un Libre Game, addirittura si gioca nelle pagine di un libro, che poi vi faccio vedere con l'unboxing e con le regole, e a seconda delle scelte che faremo, andremo avanti, ci sono vari bivi narrativi, e quindi è anche di alta rigiocabilità, anche perché quando avete finito tutta la storia, la potrete rigiocare da capo, e magari cambiando le scelte potranno succedere altre cose. E' un gioco dove la storia vede questi pupazzetti chiamati qui in gergo stoffini, perché sono fatti di stoffa, che durante la notte devono difendere la loro bambina, hanno giurato di difendere la loro bambina da delle armate del male, tra virgolette, che sono comunque altri pupazzi, altri stoffini come loro, solo malvagi, che cercano appunto di rapire e portare via la bambina, ma anche di corromperla. Quindi la vostra missione sarà quella di aiutare la bambina, e soprattutto riuscire a vincere la battaglia prima che lei si risvegli, perché poi vedete c'è anche un sistema con cui appunto lei si potrebbe risvegliare dal sonno e quello potrebbe comportare a seconda delle regole, un fine partita o una cosa del genere. Ed è un gioco che, uno lo vede così, potrebbe dire fiabe di stoffa, è un gioco per ragazzini. Ragazzi, per quanto l'età è bassa ed assetto più, che è un bene, quindi perlomeno anche a livello di marketing si vende molto più facilmente un prodotto del genere, però è un gioco per tutti, fidatevi, e lo vedrete al fine, col voto che darò la mia impressione finale, questo è un gioco che assolutamente, per me, a tutti gli amanti di giochi in cooperativa, e dei giochi anche un pochino, anche l'ambientazione un po' timbarta, non avete un pochino strani, non vi deve assolutamente mancare nella libreria, infatti, ammetto, non lo conoscevo, l'ho visto sul listino, conoscevo Mice & Mystics, l'ho visto sul listino di Asmod Italia, ho detto, cos'è questo fiabe di stoffa? Ho cliccato, ho visto, e ho detto, no, no, lo devo avere, infatti, non dico nient'altro. Unboxing, vedete la scatola, abbastanza contenuta come dimensioni, gioco della Playhead Games, che hanno fatto tantissimi board game, tra cui c'è anche, appunto, Mice & Mystic, e portato in Italia, localizzato da Asmod Italia, vedete, intanto il disegno che, tra l'altro, sono anche un po' in rilievo, è veramente bellino, colorazione digitale, e anche il disegno è spettacolare, vediamo gli stoffini, appunto, che combattono le forze del male con una luna nera, è veramente, veramente molto bellino, e soprattutto fortemente tematico, e, come dice qui, un gioco della serie Adventure Book, perché, come ho detto, è un misto fra un gioco da tavolo, un board game e un libro game, e quindi non poteva capitare a casa mia nel momento migliore, perché mi sta riprendendo una voglia di lupo solitario e libri game, roba da paura. Apriamo. Regolamento. Scritto benissimo. Tradotto ancora meglio. Tra l'altro non ci ho trovato nemmeno un errore grammaticale, quindi anche a livello di traduzione è fatto veramente da paura, e che in pochissime pagine, anche perché le regole sono ancora meno, ci descrive quale sarà il turno del gioco e le azioni che potranno svolgere i nostri stoffini. Token. Se vedete un pochino che mancano, ovviamente, perché si sono staccati, comunque tanto ora poi ve li facciamo vedere nel dettaglio, e nei vari token ci sono le imbottiture, che sono questi, che è la genialata del gioco, che sono i punti ferita degli stoffini, cuoricini, che sono punti che si possono guadagnare nel corso dell'avventura, poi c'è il tracciato della minaccia, che vedete qui, il tracciato delle azioni di gruppo, e insomma tantissimi altri token. Questo ci fa presente che le carte storia, come le trovate, non le dovete mescolare, lasciatele così, un po' come nei bohend vecchi giochi Escape Room, ci sarà una sequenza in cui il gioco vi dirà quando prenderle, quando leggerle, quindi non le mescolate. Libro delle storie, regolamento, regole speciali e tabellone di gioco. Cioè questo è anche il vostro tabellone di gioco. Poi girando le pagine, da una parte avrete sempre scritto, poi non ve lo spoiler ragazzi, vi faccio vedere solo questa pagina, avete sempre scritto i vari paragrafi, come un libro game, vedete, 23-2, 23-3, 23-4, e questa parte qui invece è proprio il tabellone di gioco, dove muoverete le vostre miniature, i vostri stoffini. Sacchettino, tra l'altro da shakerare, e dove mettere dentro i dadi colorati. I dadi sono divisi per colori, poi ve lo faccio vedere nel dettaglio più tardi, comunque i dadi neri sono quelli per i mostri, i dadi viola sono dadi che si possono ritirare per cambiargli colore, i dadi verdi sono dadi da tiro, e così via. Poi tanto ve li faccio vedere dopo. Schede degli stoffini, con punti abilità e tutto quello che hanno. Pigol, in questo caso. Bottoncini, che sono praticamente la valuta del gioco, i soldi, che possono essere utilizzati per comprare carte equipaggiamento. Mazzi vari, tra cui carte equipaggiamento, sia per il singolo personaggio che equipaggiamento di gruppo, che sono equipaggiamenti che tutti i giocatori potranno utilizzare. Carte ricerca, soprattutto storia, vedete che dietro c'è il simbolo di una lente di ingrandimento, e queste sono quelle che assolutamente non dovete mescolare, quindi le tirate fuori e le mettete in campo così. Anche qui carte scelta, carta avventura, carta ricerca, insomma, vediamo tutti quanti i mazzi messi insieme, e poi qui il mazzo degli status, col punto esclamativo dietro, che sono tipo status che potrebbero capitare ai vostri personaggi, quando il gioco vi dirà che devono riceverle. E poi qui vedete, sono cascate un pochino fuori, comunque sono le imbottiture. E poi qui mostri e stoffini, ora ve ne facciamo vedere qualcuno nel dettaglio. Un bel boss da fronteggiare, questo è proprio cattiveria, guardate bello, poi anche come sono fatti, che sono giocattoli, sono giocattoli che nella notte, quando la bambina dorme, si vanno ad animare, bellissimo. Un altro boss, questo qui bello cicciotto, con la mannaia, che ricorda un po' Jason, di vero dei tredici, bellissimo. Due mostriciattoli, quindi due mostri normalissimi, che vanno lì a far numero, e dovranno essere sconfitti. Uno sembra la cosa, e uno sembra un giocattolo senza cuore, bellissimo. Due degli stoffini che ci sono dentro, guardate bello, sono bellini, sono troppo belli, e questa è mia moglie dipingere. Vi faccio vedere un po' il tabellone di gioco, che ricordo essere le stesse pagine del libro, non a caso abbiamo tagliato fuori, da questa parte in poi, perché non ve lo vogliamo spolerare. Occhio, non è un gioco legacy, lo potete rigiocare tranquillamente, però la prima volta è sempre più bellino. Soprattutto con le carte storia, che come vedete sono impilate, dall'uno, fino in fondo, e le dovete sempre tenere così, ok? Queste carte non vanno mai mescolate, quindi anche quando finirete la partita, e magari dovete fare un save, e proseguirla nella prossima, se non ce la fate a finirla, o quant'altro, oppure una partita successiva, queste carte qui tenetele sempre in ordine, quindi mettetele sempre, vabbè, a rimettere in ordine ci vogliono, sono numerate, ci vogliono due secondi, però comunque attenzione, e le regole del gioco, sono scritte su queste carte qui, riassuntive, che ci fanno vedere il turno dei giocatori, come si svolge, poi ovviamente dopo il turno dei giocatori, degli eroi, dell'istrofinito, c'è il turno dei mostri, e i dadi, che cosa fanno, e sono scritte qui, quindi di queste qui, datene sempre una per ogni giocatore. Comunque, nell'avventura principale, abbiamo messo Piggol, come eroe, che lo vedete, che è quello con il martellino in mano, e vedete che ciascun eroe ha un'abilità, che è questa, che è un'abilità che è sempre attiva, quindi leggetevela bene, prima di iniziare l'avventura, o magari quando scegliete l'eroe in fase di setup, e andate a leggere l'abilità dello stoffino, che è un'abilità passiva sempre attiva. Questa abilità sotto, dove c'è un cuoricino, vuol dire che per essere utilizzate, dovrete spendere un cuoricino. I cuoricini, come anche i bottoncini, si guadagnano sconfiggendo nemici. Ora, il bottoncino si guadagna sempre, ogni volta che sconfiggete un nemico. Il cuoricino non si guadagna sempre, ma solo quando te lo dice l'avventura, quindi leggete il setup e tutto quanto, e vi dice magari sì, quando uccidi un boss prendi un cuoricino, oppure quando ammazzi un nemico normale, prendi un cuoricino, quindi quello sta sempre all'avventura. E vediamo le caratteristiche che sono, qui è la zona per conservare un dado, quindi potete conservare un dado di qualsiasi colore, uno e uno soltanto, quindi se ne volete conservare due, quello precedente viene tolto. Qua ci dovete mettere i token dell'imbottitura, e qua giù invece ci dovete mettere tutti i cuoricini. Quindi i cuoricini andranno sulla scheda qua giù, e le imbottiture, che ricordo essere nere per i mostri, e bianche per gli stoffini, le metterete qui. Ogni stoffino inizia con un valore di 5 di imbottitura, però non c'è limite, ne può avere anche 10, 20, insomma quanti ne riuscite ad accumulare, le andate a mettere qua sopra, le impilate o se non vi ci stanno anche accanto, e non c'è limite. Quindi ricordatevi sempre che, quando guadagnerete imbottitura, quella imbottitura lì, potrà essere aggiunta a quella che già avete. Poi vabbè, mostri, ora poi vi faccio una descrizione veloce del tabellone, personaggi in fondo, quindi gli eroi quelli che andremo a utilizzare. Questa qui è la colonna della minaccia, quindi la colonna della minaccia, ogni volta che uscirà un dado nero, ce lo dovrete andare a posizionare sopra, che ora poi vi faccio vedere nella fase di pescaggio. E qui accanto invece sono le azioni di gruppo. Quando il gioco vi chiamerà a fare una prova, non potete fare un combattimento di gruppo. Sarà sempre lato narrativo del libro, che vi dirà dovete, che ne so, aprire una porta, riuscire a spalancare un armadio, tutte cose, perché poi il gioco si ambienta tutto dentro casa, no? Soprattutto nella cameretta della bambina. Dovrete fare azioni di gruppo e potrete mettere i dadi insieme. Da 1 fino a 10 tutti i giocatori potranno contribuire. E qua giù in fondo ci sono le carte dei mostri, ma le carte dei mostri con le varie caratteristiche ve le faccio vedere appunto dopo, in questo caso sono i tante zampe, dopo nella fase appunto dei mostri. Le azioni che si possono fare in un turno per ciascun giocatore, quindi prima muovono sempre gli stoffini e dopo muovono sempre i nemici, sono muoversi, custodire, incoraggiare, test di abilità, prova di gruppo, attaccare e ricercare. Non c'è limite al numero di azioni che potete fare, ne potete fare anche 4, 5, anche dello stesso tipo, l'unica limitazione sono i dadi, perché tutti i dadi del gioco, che sono quelli colorati che vi ho fatto vedere in unboxing, vengono messi, tra l'altro è bello, bello spesso sto sacchettone, mi guarda bene a morire, vengono messi dentro a questo sacchetto e shakerati. e all'inizio del turno ciascun giocatore ne deve pescare 5, mai di più, sempre e solo 5, quindi si shakerà così, si mette la mano dentro casualmente e si vanno a pescare 5 dadi. A me sono capitati questi, però poi dopo ovviamente ve li descrivo tutti quanti. Questi qui sono i dadi che voi potrete utilizzare per le vostre azioni. Vi ricordate che all'inizio vi avevo detto che un dado può essere messo da parte. Quando prendete un qualsiasi dado, a parte i dadi bianchi e neri che vengono messi da parte, vi dico dopo, un qualsiasi dado dell'altro colore che non sia bianco o nero può essere messo laggiù in fondo e quando conservate un dado lo potete utilizzare o per difendervi dall'attacco di un mostro o lo potete tenere buono per un turno successivo. Uno potrebbe dire a me mi sta andando male recentemente, non c'ho mai nemmeno un dado rosso di attacco perché questi sono quelli di attacco, me lo metto da parte così nel turno dopo prova a fare un attacco perché sono tre turni che non riesco a fare un combattimento perché anche lì è casualità quello che peschi e quindi mettendolo qua giù il dado non può essere usato a meno che non vi difendiate dall'attacco di un mostro e è messo da parte per il turno dopo. Tutti gli altri dadi invece hanno delle azioni particolari. Si parte dal dado rosso che è un dado di attacco, dado verde che è un dado di attacco a distanza, dado giallo che è un dado di ricerca, dado blu, un dado che non ha nessun legame particolare, è l'unico che non dice per l'attacco e per la difesa e per l'attacco a distanza. Quando ve lo chiede il gioco dovete tirare quel dado, quindi è più che altro per delle prove. E poi c'è il dado viola che è chiamato il dado jolly che è un dado che potete convertire in qualsiasi colore. Quindi se lo volete usare per l'attacco diventa uno rosso, se lo volete usare per la ricerca diventa un dado giallo e così via. All'inizio le prime cose da fare, come dice la carta che vi ho fatto vedere precedentemente, la prima cosa da fare è shakerare e pescare i dadi, quindi quello che abbiamo fatto noi. La prima cosa bisogna cercare imbottitura. L'imbottitura si cerca con i dadi bianchi, quindi i dadi bianchi servono unicamente per cercare imbottitura. Voi prendete il dado bianco, tirate il dado bianco, vedete il valore che ci viene scritto sopra, se il risultato che è uscito sul dado bianco è uguale o superiore all'attuale numero di imbottiture che avete sulla scheda del personaggio, quindi nel caso il mio ne avesse due perché magari era ferita una cosa del genere, avete diritto a pescare subito un'altra imbottitura. Quindi quando tirate il dado bianco ricordatevi che se avessi fatto due e avessi già avuto tre imbottiture non avrei preso nessuna imbottitura in più. Nel caso faccia uguale a quello che ho o superiore, ho direttamente diritto a prenderne un'altra. Quindi praticamente la prima fase è quella di recupero punti ferita. La seconda fase invece è collocare la minaccia quindi tutti quanti i dadi neri che sono questi qui non li tirate come escono escono quindi tanto si tireranno dopo questi dadi neri qui vengono messi sull'indicatore minaccia che sono questo qua. Quindi automaticamente vanno lì non li potete scartare non li potete convertire col dado viola quando li pescate vengono direttamente messi qua giù. Questa tabella che vi faccio vedere qui da questa parte andrebbe messa da quest'altra praticamente andrebbe messo dall'altra parte del manuale però uguale l'ho messa lì ragazzi per farvelo vedere meglio e qui vanno tutti quanti i dadi delle minacce. Poi le azioni che si possono fare sono sempre ve l'ho detto muoversi e per muoversi lo stoffino tira un numero di dadi che vuole. Ricordatevi che per tutte le azioni potete sempre tirare uno o più dadi quella scelta vostra ovviamente tirando più dadi dello stesso colore o di colori differenti il risultato sarà sicuramente più alto che non tirarne uno soltanto non sempre però comunque la percentuale si alza. Quindi per muovervi voi mettiamo caso che i dadi attualmente dei giocatori sono questi qua quindi più o meno anzi no più o meno di tutti i colori il giocatore che guida Piggle che è questo qui potrebbe dire ok io ho bisogno di muovermi perché voglio andare a attaccare quei mostri. Quindi i giocatori si possono sempre muovere in tutte le linee tratteggiate del gioco e anche in quelle continue colorate in quelle bianche no. se vedete qui un tratteggiato verde intorno al letto se vedete un tratteggiato bianco lì non ci si può muovere nessuno né mostri né loro che sono zone praticamente dove non ci si può muovere però ci si può muovere nelle zone tratteggiate se si utilizza almeno un dado dello stesso colore della zona tratteggiata. Comunque all'inizio dico voglio andare da quei mostri quindi tirerò un dado blu e uno viola perché poi quello rosso mi serve per il combattimento uno blu e uno viola tiro ho fatto 4 più 5 9 e quindi io potrei fare 1 2 3 però poi non posso salire sul letto perché come vi ho detto per salire sul letto ci vuole anche un dado del colore del tratteggiato quindi comunque vabbè potrei usare 9 per muovermi in tutto il resto della stanza perché poi i mostri come vedete dopo si muoveranno se io avessi voluto provare a montare sul letto magari avrei detto guarda insieme al blu ci tiro anche un verde ho rifatto 9 un'altra volta però ora essendoci anche un dado verde faccio 1 scusa 1 2 3 4 perché posso montare sul letto perché c'ho un dado verde e poi finisco la mia azione che vada in corpo a corpo con i mostri sia gli stoffini che i mostri si possono muovere ortogonalmente o in diagonale lo stesso anche i mostri e idem per l'attacco quindi posso attaccarli tutti e due e questa è la fase di movimento poi c'è la fase di custodire custodire è semplicemente quell'azione che vi ho detto prima voi prendete la scheda del vostro personaggio questa qui e qua giù in fondo ci andate a mettere un dado quindi boh non lo so il dado viola mi interessa tenermelo per dopo ecco nel caso per fare un'azione particolare e la mettete qua giù in fondo quindi la seconda azione possibile è quella di custodire uno e uno soltanto non potete custodire più di un dado oppure c'è incoraggiare che potete mettere sulla scheda di un altro stoffino quindi mettiamo caso che ci sia Teodora che è di un altro giocatore voi potete scartare uno dei vostri dadi uno qualsiasi quello che volete voi per dargli uno di imbottitura quindi voi dite boh questo dado giallo visto che non c'è da fare ricerche lo scarto e al mio amico che ha una ferita e sta per morire gli do un'imbottitura o se no allo stesso modo per incoraggiare potete invece che scartare un vostro dado per dargli un'imbottitura potete scartare un vostro dado per darlo a lui e metterglielo in custodito quindi invece che fare un dado custodito per voi fate un dado custodito per un vostro compagno che è una cosa che potrebbe servire i test di abilità vanno fatti quando è l'avventura chiedercelo perché questa è una partita principale però nel corso delle missioni potreste trovare vari token con vari simboli tipo questi qua con vari simboli in giro per la mappa e il gioco potrebbe richiedervi di fare dei test di abilità fare dei test di abilità vuol dire sempre tirare uno o più dadi come vi ho detto sempre del colore che vi chiede la prova se la prova vi chiede un dado rosso per fare quella prova e voi non ce l'avete il dado rosso al solito il dado viola viene in aiuto perché il dado viola si trasforma in qualsiasi colore magari la prova vi dice dovete riuscire a fare un 5 o più con il dado rosso d'attacco voi ce ne avete uno soltanto potete dire ok io solo mi sento fortunato tiro soltanto un dado e provo a fare 5 o più oppure ci abbinate anche un dado dell'altro colore qui del viola che lo tramuta in dado rosso e quelle sono le prove di abilità di solito le prove di abilità possono anche essere date da carte e cose del genere ma nella maggior parte dei casi è proprio la storia che vi dice come e quando farlo ci sono prove di gruppo come vi ho detto prima che è un test abilità uguale pari pari come tutti gli altri con la differenza che i dadi non li è andate a tirare ma ciascun giocatore sceglierà tot dadi che ovviamente dovrà tirare quindi nel caso tiriamo questi due sono usciti un 6 e un 2 e li mettiamo sulla colonna qua giù che come vi ho detto prima sono le prove di gruppo giocatore A giocatore B tira i suoi dadi rossi o quanti ne ha o quanti ne vuole mettere per aiutare poi c'è l'azione di attaccare ma ve la faccio vedere dopo c'è l'azione di ricercare che sempre in Libra Avventura o a volte c'è scritto anche un numerino qui sulle pagine o sulle pagine o direttamente nel setup la prova di ricercare è il tiro di un dado giallo perché vi ricordate il dado giallo come vedete all'inizio è quello dell'azione esclusiva di ricercare anche questo lo potete fare quante volte volete e potete tirare più di un dado quindi più di un dado giallo un dado giallo o un dado giallo e un dado viola che si converte in qualsiasi colore se riuscite magari vi dice la prova superate 6 o più voi tirate i vostri dadi gialli o quello che sono sono riuscito a fare 6 o più ok ce l'hai fatta nell'azione di ricercare automaticamente voi andate a pescare una carta oggetto di queste qua giù che ovviamente ora le ho messe alzate per farvele vedere meglio però devono stare coperte voi andate a pescare una carta equipaggiamento ed è una carta che potete dare al vostro personaggio al vostro stoffino ricordatevi che le carte equipaggiamento vi danno dei bonus al combattimento se dovesse uscire una carta questa è una carta equipaggiamento singolo a volte escono carte equipaggiamento di gruppo le carte singole le collegate direttamente alla scheda dello stoffino le carte equipaggiamento di gruppo le dovete lasciare pubbliche al centro del tavolo scegliete voi dove perché è un oggetto che tutti gli stoffini potranno usare anche se non ci sono in contatto praticamente ce l'hanno a volte tipo una macchinina radiocomandata un monopattino per muoversi più veloci quindi è una cosa che possono usare tutti gli stoffini e deve restare al centro del tavolo c'è anche a volte un'azione di market le azioni di market cosa vi dicono quando guadagnate bottoni e vi ricordo almeno di regole particolari i bottoni si guadagnano uccidendo mostri possono essere spesi uno a uno per comprare una carta quindi le carte costano uno voi potete semplicemente spendere un bottone e pescare una nuova carta dal mazzo degli oggetti oppure se non avete bottoni da spendere potete scartare uno dei vostri oggetti è un po' come venderlo lo scartate e ne pescate uno nuovo quindi l'azione è semplicemente quella lì ricordatevi gli oggetti si dividono in oggetti singoli per il personaggio e oggetti di gruppo per tutti gli altri se arriva alla fase finale che poi è la fase più importante che è quella del combattimento si tirano i dadi come vi ho detto rossi per il combattimento in corpo a corpo i dadi verdi per il combattimento a distanza e in questo gioco nessuno parte armato nessuno nessun eroe parte armato quindi gli eroi non possono attaccare all'inizio dovete trovare carta equipaggiamento cercando nel caso quest'eroe questo stoffino avesse un'arma da tiro dovrà vedere la gittata la gittata potrebbe essere due tre quattro se ci arriva e attaccherà con i dadi verdi d'attacco a distanza se fosse in corpo a corpo attaccherà con i dadi rossi quando si va ad attaccare ricordatevi che ciascun mostro ha un valore di difesa e il valore di difesa del mostro è questo qua giù i mostri non tirano dadi per difendersi quindi quando il colpo entra il colpo è entrato punto e basta tutti i mostri del gioco a parte i boss hanno un punto ferita quindi quando entra una ferita il mostro è morto ed è rimosso dal tavolo del gioco ovviamente se entra in campo un boss tipo questo qui i boss hanno sempre tanti punti ferita quanto sono gli stoffini in gioco quindi se state facendo una partita da quattro giocatori questo boss qui avrà quattro segnalini ora ve ne metto due davanti comunque ne avrà quattro ricordatevi di imbottitura nera quella bianca invece per i personaggi giocanti quindi per gli stoffini nel caso di un mostro normale si vanno a tirare dadi quindi dadi rossi o viola per attacco a un corpo a corpo dadi verdi o viola e tutte e due per attacco a distanza dovete semplicemente tirare uno più dadi scegliete voi se vi sentite fortunati tiratene uno però è difficile fare cinque o più cioè dovete fare uguale o superare la difesa è difficile farlo con un dado magari uno ti ha due dadi rosso e ci abbina al viola ha fatto sei quindi ha superato la difesa del nemico il nemico è stato sconfitto è stato distrutto ucciso si toglie dall'area di gioco e guadagna il giocatore una un bottoncino stessa cosa se volesse attaccare a distanza potrebbe attaccare o qui può attaccare in corpo a corpo anche in diagonale se volesse attaccare a distanza solo nel caso abbia un'arma a distanza invece di tirare il rosso si tira il verde con possibilità di abbinarci il viola il regolamento del combattimento è tutto qui si arriva nella fase finale che è la fase dei mostri quindi quando tutti i dadi sono stati utilizzati tutti i giocatori hanno fatto le proprie azioni ricordatevi che non è tutto qui il gioco c'è la parte narrativa perché avete una missione non è che andate così in giro per la mappa a uccidere poi questa è la mappa di base ma nelle missioni avanzate ci sono molti più simbolini sulla mappa per cose che potete fare ad esempio quel simbolo che ho messo lì è un simbolo segnalino smarrito lì dovrete fare un'azione che sarà sempre collegata al manuale che vi dirà che ad esempio c'è uno stoffino che se è perso una cosa del genere vi chiederà di fare un tirabilità se la supererete lo stoffino vi potrebbe dire dire direttamente grazie mi hai salvato d'altronde l'altruismo non sempre deve essere ricompensato oppure vi potrebbe dare una ricompensa ad esempio questi sono i segnalini le stelline obiettive e così via come dicevo quando si arriva nella fatidica fase dei mostri tutti quanti i dadi devono essere scartati quindi quelli che sono stati utilizzati sono scartati per forza quelli che non sono stati utilizzati devono essere scartati l'unica cosa che si può tenere da parte è quel dado che si mette sulla scheda come vi ho detto all'inizio quindi quel dado che voi vi siete messi da parte ricordatevi che dadi neri vanno sempre per l'indicatore minaccia dadi bianchi sono per recuperare imbottitura tutti gli altri colori anche il viola li potete mettere da parte quindi tutto il resto vanno scartati a questo punto c'è la fase di mostri e la fase di mostri non avviene sempre o meglio non sempre i mostri vi attaccano e si muovono ma anche qui c'è una regola particolare se sull'indicatore dadi minaccia ci sono tanti dadi quanti sono i mostri in gioco o più quindi se il valore dei dadi minaccia è uguale o superiore all'attuale numero di mostri in gioco in questo caso si perché ce n'è ora leviamo il boss perché ce n'è rimasto solo uno dei due si attivano i mostri quindi i mostri si attiveranno e faranno un turno ciascuno altrimenti se non ci fossero abbastanza se ci fossero più mostri in campo dei dadi minaccia che ci sono qui i mostri non si attiveranno però succederà una cosa che vi dirò breve comunque quando si attiva un mostro vedete sulla carta del mostro ci sono due tipi di caratteristiche che sono il primo è il movimento il secondo è il range dell'attacco quindi range 1 mostri da corpo a corpo ovviamente hanno anche un'abilità speciale che dovete leggere più i danni che vi fanno quindi semplicemente quando un mostro si attiva voi la prima cosa che dovete fare dovete elevare un dado minaccia per ciascuno dei mostri che si muovono quindi in questo caso un dado minaccia perché c'è un mostro soltanto prendete il dado minaccia quello nero lo tirate avete fatto 6 andate a vedere sulla tabella da 4 a 6 a fa ticchettare quindi il mostro si muove di 3 attacca in corpo a corpo e fa 4 danni quindi il mostro si muove sempre verso lo stoffino più vicino nel caso ci siano più stoffini alla stessa distanza insomma deciderà il narratore decidete un po' voi verso chi va comunque si muove verso lo stoffino più vicino fa un passo gli arriva in corpo a corpo e vedete l'attacco è soltanto in corpo a corpo quindi a range 1 e gli fa 4 ferite in questo gioco i mostri non si difendono voi vi potete difendere solo e soltanto se avete messo un dado di qualsiasi colore a parte nero e bianco nella riserva qua giù in fondo se avete messo un dado riserva laggiù in fondo potete dire me lo tengo per il turno dopo o provo a tirarlo ora per difendermi se lo tenete vi prendete le 4 ferite che va fatto il mostro se invece decidete di tirarlo cioè di usarlo lo scartate lo tirate è venuto fuori 1 quindi ho tolto 1 dai 4 danni che mi ha fatto il mostro quindi dovrò perdere 3 di imbottitura che se ne vanno dalla scheda del personaggio e vanno nella riserva comune e poi in più si muoveranno tutti gli altri mostri nel caso presenti sul tavolo quindi dall'indicatore minaccia dovete scartarli tutti e ricordatevi che tutti i mostri che entra non giocano anche quelli nuovi sempre su questo simbolino qui quindi in questa mappa loro partiranno dal letto ripristinare il sacchetto dei dadi come ultima e ultimissima cosa dovete sempre scartare tutti quanti i dadi che vi ho detto che avete utilizzato anche quelli neri a fine turno qui non ce ne rimane più nulla anche i dadi minaccia devono andare via li ributtate direttamente nel sacchetto li shakerate e siete pronti a iniziare un nuovo turno quando uno stoffino arriva a 0 punti imbottitura 0 punti ferita lo dovete buttare così giù non è morto però ovviamente andate a leggere perché da avventura a avventura cambia le regole potrebbe essere persa la partita ma nel 99% no quando finisce per terra fino a che non riguadagna almeno un imbottitura non può tornare a giocare quindi rimane lì fermo e perde ovviamente tutte le carte che aveva quindi come si recupera imbottitura all'inizio del turno quando si pescano dadi tirando un dado per vedere se il risultato che viene fuori deve essere uguale o più alto del valore dell'imbottitura che avete attualmente quindi più imbottitura avete più sarà difficile ovviamente prendere però anche qui potete abbinarci un dado viola oppure se avete due dadi bianchi è più facile fare il risultato più alto o se no quando un giocatore come vi ho detto prima usa l'azione di incoraggiare ovvero che dice ok io scarto uno dei miei dadi e automaticamente ti regalo un'imbottitura questo eroe qui che è piggo prende un'imbottitura e torna in piedi ragazzi il gioco è tutto qui le regole poi ovvio ogni avventura ha le sue regole quindi questa è la partita di base ma altre avventure hanno molte più regole sopra ma non vi preoccupate perché tutte le volte volta per volta ve lo dirà sempre il libro stesso e questo è qui ragazzi bene o male il funzionamento del gioco in conclusione questo è il regolamento del gioco e fiabe di stoffa è un gioco che inganna inganna perché ora se uno io a parte non lo conoscevo però se uno conosce la play that games sa già che ti poteva ingannare anche my side mystics invece è un dungeon crawler da paura non vedo l'ora di giocare bellissimo e uno potrebbe vedere giustamente lo ammetto anch'io questo disegno qui dire ah però magari leggo un po' dietro la scatola anfiera tutto quanto ma però vedo età 7 o più un gioco da bambini ragazzi colpifero questo è un gioco da tutti e questo è il classico gioco non da bambini è il classico gioco furbo a livello di marketing che stirizza l'occhio a un pubblico a un bacino di utenza immenso perché è un gioco dai 7 anni in su cioè qui ci può giocare il vostro nipotino vostro figlio magari di 7-8 anni o ci può giocare anche un fissato un fanatico di dungeon crawler perché è bello e poi occhio qui che hanno fatto secondo me venderà da paura infatti ho già visto tante recensioni positive anche su gruppi facebook nei social perché la cosa bella è che stanno tornando molto in voga i libri game e questo è un gioco da tavolo che si fonda un libro game perché il gioco vi dirà anche fate una scelta scelta A scelta B scelta C scelta C andate a pagina tot andate a pagina proprio la storia cambia ora è vero che la rigiocabilità va vista un attimino che poi ovviamente rigiocabilità che viene data anche dai mazzi perché i mazzi quelli che vi ho detto che dovete utilizzare per aiutare sto fine in difficoltà sono tanti sono tante le carte quindi potrebbe essere capitare chissà cosa mazzi semplicemente di ricerca e altre cose cioè oggetti che si possano trovare le carte storia la rigiocabilità cioè è alta non altissima come arte giochi perché una volta finita la storia si sa già come va a finire però è come un libro game io lupo solitario uno di quelli che mi ricordo di più le abissi di Calteland che era c'aveva tante strade a differenza infatti era un po' più cicciosetto come manuale io l'ho finita quel libro game se non era da piccino o due o tre volte perché comunque c'aveva talmente tante strade che è vero al finale era sempre lo stesso però le strade erano molteplici quindi è un gioco che assolutamente può avere un livello di rigiocabilità secondo me abbastanza alto comunque sopra la media ed è un gioco assolutamente per tutti dove lo portate lo portate per me assolutamente farete divertire da morire chiunque e non vi fate fregare dai disegni è un giochino è per i bimbi ragazzi non è vero è un cavolo è un gioco per tutti io ce l'ho 40 e ci gioco quindi questo è un gioco assolutamente per tutti è un gioco che vale oro e se devo dargli un voto gli do assolutamente un 8 su 10 veramente bellino da morire mi ha preso un casino ci giocherò sicuramente tanto voglio finire tutta la storia e vi voglio portare anche dei gameplay sul canale è un gioco ragazzi per tutti e da una strizzata d'occhio a noi vecchiacci più che ai bambini perché ci butta nel mezzo anche i libri game è molta 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 narrativa e lo sapete amo le case della follia perché io amo i giochi ricchi zeppi di narrazione quindi un gioco da tavolo che si fonde a un gioco di ruolo che si fonde a un libro game quindi questo va ancora oltre quindi un 8 è meritatissimo io ancora una volta ringrazio l'Asmo d'Italia per avercene fornito una copia per la recensione io non lo sapevo lo ammetto e anche la stessa Aurora mi ha detto ah non pensavo ti potesse interessare sa che sono trusce demoni goblin orchi di buono spade che sgozzano e zombie side soprattutto ce l'ho tutti quindi non me l'ha proposto lei ha detto se no te l'avrei proposto io non pensavo ti potessi piacere invece è una grandissima figata e quindi grazie Asmo d'Italia al solito è un onore poter collaborare con voi grazie di cuore e vi faccio dire una cosa vi faccio fare un saluto particolare da un regalo che quanto è stato? due anni fa? due anni e mezzo fa ho fatto a mia moglie che è una cosa molto bellina e guardate cosa dici? lo dobbiamo comprare? lo devono comprare? fiamme di stoffa? sì io direi di sì anche perché se non lo comprate e cazzo è bellissimo non vi faccio vedere lo sguardo che mi ha fatto mia moglie comunque acquistate non è compreso nel prezzo però assolutamente acquistatelo perché è bellissimo sono bellino sono baby Yoda non vi guardare così ti prego porca miseria a parte la pazzia finale trovate primo link in descrizione per acquistarlo ma ragazzi i giochi dell'Asmodi si trovano in tutti i negozi di giochi da tavola giochi di ruolo quindi girate per la vostra città o paese lo troverete se no comunque lo potete sempre ordinare e tutti quanti i nostri social fatemi sapere cosa ne pensate ed è un gioiello anche questo ciao ragazzi alla prossima ciao